Una esperienza di vita. Nella notte del 7 marzo 1976, serate di inaugurazione della stagione lirica del teatro alla Scala, si ebbero a disordini per le vie di Milano. Un vicequestore salvò un giovane estremista già avvolto dalle fiamme e abbandonato dai compagni. Quel vicequestore si chiamava Vittorio Padovani e alcuni giorni dopo avrebbe perso la vita a Sesto San Giovanni ad opera di un giovane brigatista russo ucciso a sua volta da un poliziotto. Sono sicure, dice la vedoa, signore Mirella, che se fosse sopravvissuto non avrebbe provato nessun sentimento di odio per il giovane che gli aveva sparato. E anch'io non odio nessuno. Durante la veglia funebre, la sorella suora, recitando il rosario, offriva una decina per il fratello e l'altra per l'uccisore. L'episodio riportato ci fa vedere due modi di vivere il battesimo. Alcuni instaurano un regno di violenza non curante del don di partecipazione alla vita divina e di essere chiamate dall'altissima missione di collaboratore di Dio per la costruzione del regno di pace e di amore. Altri, seguendo Gesù su Calvario e vencendo i propri umani sentimenti, gridano con Lui Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. La Santissima Trinità dona ai battezzati la grazia santificante che lo rende capace di credere in Dio, di sperare in Lui e di amarlo per mezzo della virtù della fede, della speranza e della carità. Mediante il battesimo la nuova creatura può chiamare Dio col dolce nome di Padre, Abba Padre. La culla è fonte del battesimo. Il mercoledì 25 maggio 1887 alle ore pomeridiane 5 Francesco, il futuro Padre Pio, fa sentire i primi vagiti. Zio Razzi racconterà che erano in campagna quando la sua consorte le fece capire che raggiunti il momento del parto. Zia Giuseppina rientra in paese mentre Zio Razzi la segue, ma dopo aver sistemato il lavoro, la raggiunge in paese quando il figlio è già nato. Padre Pio sarà il quarto dei sette figli della famiglia Forgione. Il battesimo gli viene amministrato il giorno seguente alle ore 8 nell'antica chiesetta di Santa Maria degli Anceli che in seguito prenderà il titolo di Sant'Anna. Sarà Zio Razio a presentare il bambino al sacerdote e unirà le sue lacrime all'acqua battesimale per la gioia che il suo figlio nasceva alla grazia. Non capirà le forme latine del battesimo e risponderà solo Amen e così sia. Voglio che mio figlio fosse figlio di Dio e con il nome di Francesco sia figlio di Francesco di Assisi. Il cristiano nel battesimo risorge in Gesù. Padre Pio in una lettera inviata a Raffalino Celasa affronta vari argomenti di carattere spirituale e mette in modo particolare l'accento sui frutti e gli effetti del battesimo. L'uomo mediante il battesimo viene rivestito dalla dignità dei figli di Dio ma questa dignità per il padre può essere messa in pericolo dai vizi con i quali si può offendere il prossimo. L'ira, l'integnazione, la malizia. Nasce così la necessità di un impegno costante di spogliarsi dell'uomo vecchio. anche noi. Padre Pio rivolge l'esortazione riportata nella lettera del 9 novembre. O stolto, rientra in te stesso, rammentati che tu sei battezzato e hai rinunciato al mondo e sei per lui un morto. Lo Spirito Santo che parla per bocca di Paolo te lo dice. Siete morti al mondo e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.